La giornata di oggi conferma la bontà di tutta la linea progettuale che abbiamo già delineato e presentato espressamente con il rapporto annuale alla presenza del Capo dello Stato. Quindi vuol dire puntare sui giovani, ma tutto questo perché? Perché è l'unica ricetta percorribile che può servire a raggiungere un sistema pensionistico sostenibile. Più contribuenti, più contributi e questi possono soltanto essere rappresentati dall'ingaggio dei nostri giovani. Devono contare sul nostro paese, il nostro paese noi tutti noi contiamo e facciamo affidamento sui giovani perché sono il nostro futuro. È il passaggio del testimone armonico, fluido e qualificato di cui c'è sempre necessità proprio per sostenere e contestualizzare il paese di fronte alle future che lo aspettano a livello non soltanto domestico ma anche globale.